Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per questo entusiasmo, grazie tesoro. Non è stata una settimana diciamo rilassante, non sono state settimane rilassante, eppure era molto importante per me essere qui, era molto importante per noi essere qui per varie ragioni, la prima delle quali è che per quante cose noi ci si trovi a fare, poi hai sempre bisogno di un momento nel quale tornare in piazza a guardare la gente, a chiedere a loro, non agli opinionisti interessati, non ai giornali schierati, non alle opposizioni, ma agli italiani che cosa pensano del lavoro che stiamo facendo, perché il giudizio dell'Italia è l'unico giudizio che mi interessa, il giudizio degli italiani oltre a quello della mia coscienza, e perché da qualche parte tocca tornare a prendere l'energia per fare il lavoro che facciamo, e a noi l'energia piace prenderla così, dall'entusiasmo che anche stasera ci avete regalato, per una campagna elettorale che è molto importante, per una città che è molto importante, per una regione che è strategica. Io penso che dal voto di domenica e lunedì dipenda molto in questa città, intanto basta guardare un po' al passato, basta guardare al lavoro che il centrodestra ha già fatto, a Catania, nella regione Sicilia, quello che sta cominciando a fare a livello nazionale. Non dimenticate che se fosse stato per altri questa città non sarebbe uscita dal dissesto finanziario nel quale era stata precipitata. C'è stato qualcuno che ha lavorato, lo ricordava Matteo, a vari livelli, per rimettere Catania nella condizione di ripartire e che oggi grazie a quel lavoro che è stato fatto non solo non vede più Catania in una situazione di dissesto finanziario, ma vede Catania come esempio, per esempio come una delle città metropolitane che sono meglio riuscite a programmare e a spendere i fondi europei, fatti concreti. Perché guardate ci sono due modi di governare, c'è la comunicazione, quello che impatta tanto e magari immediatamente, che però produce niente sul medio e lungo periodo e ci sono quelli che fanno un lavoro molto più difficile, che lascia frutti anche dopo che se ne sono andati. A noi piace governare così, cioè il secondo modello e è stato dimostrato questo nella città di Catania, viene dimostrato nella regione Sicilia dove ci si è dedicati da Nello Musumeci in poi soprattutto al tema delle infrastrutture, la Ragusa-Catania che qualcuno aspettava da 40 anni, la Gronda Nord qui, che serve a fermare le alluvioni perché sì certo che i soldi possono anche essere spesi diciamo spesa corrente distribuiti subito ai cittadini ma poi l'alluvione arriva a volte come si è visto in Emilia Romagna e quelli che governano avendo il coraggio di impedire delle tragedie che non avverranno e per le quali probabilmente non saranno ringraziati sono in realtà quelli che governano meglio le loro amministrazioni e questo è stato fatto dal centrodestra e viene fatto a livello regionale e poi anche a livello nazionale e dei risultati cominciano a vedersi perché vedete da queste parti stanno arrivando degli investimenti che sono molto importanti, l'investimento di Enel che trasformerà questo luogo con una azienda che sarà la prima produttrice in Europa di pannelli fotovoltaici, c'è il più grande colosso europeo di semiconduttori che investe qui un investimento da oltre 700 milioni di euro, centinaia di posti di lavoro, abbiamo lavorato poco lontano da qui per mettere in sicurezza l'Isab di Priolo, una delle più grandi raffinerie d'Europa che rischiava di chiudere la messa in sicurezza a questo governo, sapete che cosa significa quando arrivano questi investimenti? Che la Sicilia, Catania possono diventare un luogo nel quale è conveniente investire, conveniente portare lavoro, conveniente portare ricchezza, conveniente portare sviluppo perché il lavoro è quello che noi vogliamo portare e contribuire a portare in questa terra e signori si può fare, si può fare con le infrastrutture, investendo, si può fare con un sistema che dica alle aziende tu mettici del tuo, non avrai uno Stato che ti lavora contro, la riforma fiscale che per esempio questo governo sta facendo dice voi volete, dice la sinistra, voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale, mai, però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale, big company, banche, frodi sull'iva, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato perché devi fare caccia al cettico più che lotta all'evasione, l'evasione la devi combattere dove sta ed è quello che faremo perché noi vogliamo ridisegnare completamente il rapporto tra lo Stato e il contribuente, cittadino e cittadino non è suddito e io sono certa che quando i cittadini si rendono conto che hanno uno Stato amico e non che mette loro i bastoni tra le ruote, molte cose possono cambiare, vedete questa è l'unica nazione nella quale c'è il detto fatta la legge trovato l'inganno, che significa? Significa che dalle parti nostre lo Stato è percepito come una cosa che non ci appartiene, una cosa distante, come una cosa che si prende gioco di te e quindi se tu ti prendi gioco dello Stato in fin dei conti fai quello che lo Stato si merita, ma cosa succede se lo Stato diventa giusto? Cosa succede se lo Stato diventa efficiente? Cosa succede se lo Stato è come te, vuole dare del suo meglio, vuole aiutarti? Io penso che possa accadere che cominciamo finalmente a remare tutti nella stessa direzione in questa nazione, che cominciamo tutti a renderci conto che siamo parte insieme di questo sistema, che nessuno si salva da solo, perché qui signori è un'emergenza continua, ne usciamo solo se ci prendiamo per mano, è questo il grande senso di tante piccole grandi cose che stiamo facendo, tipo tagliare di sette punti il cuneo contributivo sui contratti di lavoro per mettere i soldi in tasca alla gente, per aumentare le buste paga dei lavoratori, manco questo gli è andato bene all'opposizione, perché loro dicono il salario minimo, salario minimo è un principio, mettere i soldi fisicamente in tasca alla gente fino a 100 euro al mese di aumento, quelli sono fatti, sono fatti per combattere l'inflazione, sono fatti per dare alle persone una vita dignitosa, così come sono fatti tante altre iniziative che abbiamo portato avanti, soprattutto per dare questo segnale. Il declino non è un destino, il declino è una scelta, si può combattere. Come si combatte? Mettiamoci tutti ai remi, mettiamoci tutti ai remi e lo Stato farà la sua parte. L'abbiamo fatto in Emilia Romagna qualche giorno fa, c'è stata un alluvione, l'avete visto, tanti danni, tanti problemi, tante vittime. Io sono stata in Emilia Romagna e ho trovato gente che spalava il fango e diceva, sì siamo stati sfortunati, ma ricostruiremo, ricostruiremo meglio di prima. Mi ha fatto venire una grande voglia di fare il massimo che potevo fare, abbiamo tirato fuori 2 miliardi e 200 milioni di euro per ricostruire quei territori in 72 ore, ma se non ci lavoriamo tutti insieme per una regione che oltretutto è una locomotiva d'Italia, quindi ovviamente quando si ferma trascina anche tutto il resto, se poi non ci si lavora tutti insieme, anche quelle risorse non serviranno. Lo dico a voi, perché voi questo gioco l'avete fatto molte volte, perché Catania è una città che è stata distrutta e ricostruita molte volte, con la stessa dignità, con lo stesso orgoglio, con la stessa forza di volontà, che oggi mi consentono di dirvi che se ci date una mano Catania può diventare la locomotiva della rinascita della Sicilia. Avete dimostrato che si può fare, dovete crederci. Abbiamo rotto un sacco di tabù in questa nazione, signori. Ma che qualcuno si aspettava che io avrei fatto il Presidente del Consiglio? No! No! Ma il punto è che i limiti che hai nella vita non li scelgono gli altri, gli unici veri limiti che hai nella vita sono quelli che tu stesso decidi di importi. Tutto si può fare con dedizione, con sacrificio, con forza di volontà, con spirito di iniziativa, sfidando il destino. Perché sì, il destino ci mette alla prova per renderci fieri di noi. Vale per me, vale per noi, vale per il centrodestra, non ci abbiamo tanti amici, diciamoci la verità. guardatevi intorno. Non sono in tanti a essere contenti che siamo al governo, ma tanto c'è sempre un potere più forte di tutti che rimane il popolo italiano e finché c'è il consenso vostro non c'è niente che possa andare male. Ma il consenso vostro non deve essere acritico, il consenso vostro deve essere ovviamente ragionato. Guardiamo i risultati, vanno guardati i risultati. Allora io sono fiera di alcuni risultati, che sono anche qui economici, perché noi siamo nella congiuntura economica più difficile in assoluto, sempre fortunati, eppure l'Italia è la nazione che dopo decenni che fa un fanalino di coda in Europa, quest'anno crescerà più della media europea, più della Francia, più della Germania. Abbiamo appena raggiunto il nostro record storico di numero di occupati in Italia. Abbiamo appena raggiunto il record di contratti stabili. Perché? Perché abbiamo investito sul lavoro, con molte scelte che abbiamo fatto, di incentivi per le aziende. Il principio per le aziende, guarda, più assumi e meno tasse paghi allo Stato. Più assumi e più ti conviene. E anche sul reddito di cittadinanza. Signori, siamo stati coraggiosi. Perché bisogna distinguere tra chi non può lavorare e chi può farlo. Chi non può lavorare va tutelato, chi può lavorare deve essere messo in condizione di lavorare. Perché la dignità del lavoro è l'unico vero ascensore sociale che esista. E noi stiamo costruendo le condizioni per cui queste persone in difficoltà possano lavorare, trovare un lavoro, crescere per quelli che vogliono farlo. E se ce ne fossero alcuni che non vogliono farlo, beh non possono pretendere che glieli si paghi con la paghetta di Stato, ovviamente. No, devono poter lavorare, devono poter migliorare, devono poter crescere. Questa è la sfida che ci siamo dati. Non lasciamo indietro nessuno. Non lasciamo indietro nessuno. Ma chiediamo a ciascuno di fare la sua piccola parte. Perché, l'ho già detto, ci si salva solamente tutti quanti insieme. E poi dobbiamo capire quali sono i nostri punti di forza in questa nazione. Lo citava Matteo, per esempio il marchio, il made in, la specificità, l'identità, li stiamo difendendo. A 360 gradi settimana prossima portiamo in Consiglio dei Ministri un provvedimento per la valorizzazione e l'incentivo del made in Italy, dei nostri marchi d'eccellenza, dei nostri prodotti d'eccellenza, che sì, sono sotto attacco. E sapete perché? Perché sono troppo migliori di quelli di molti altri. Ma noi li vogliamo difendere, li vogliamo difendere dalle tesi assurde, tipo il vino, bisogna scrivere sull'etichetta del vino che fa male. Invece è buona la carne sintetica, la farina di grillo. Ma noi abbiamo fatto una cosa più semplice. La carne sintetica l'abbiamo vietata. Produzione e commercializzazione, perché non ci sono garanzie di sicurezza per la salute. La farina di grillo la vuoi vendere? La puoi vendere. Sia chiaro che te ci scrivo, grosso come una casa, che c'è farina di grillo in quel prodotto così la gente lo sa e decide se comprarselo. In compenso abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO. Vogliamo difendere prodotti eccellenti che fanno la nostra storia, che fanno la nostra identità da questo tentativo di omologazione, di cancellazione delle specificità. L'identità è la forza più grande che abbiamo. Il marchio è uno dei nostri asset strategici, il mare è un altro dei nostri asset strategici, non devo dirlo in Sicilia, l'abbiamo usato poco finora. Ma oggi il Mediterraneo è una grande occasione. Parlavo prima dell'investimento di Enel sui pannelli fotovoltaici. Voi sapete che in Europa c'è un problema di approvvigionamento energetico dopo la guerra in Ucraina. E se l'Europa l'energia non la può prendere più a est, dove la può prendere? La può prendere a sud. E chi c'è a sud? Chi è a sud la porta d'Europa? È l'Italia, è la Sicilia, è il sud Italia, che può diventare l'hub di approvvigionamento energetico dell'intera Europa, facendo da ponte con l'Africa, risolvendo così anche strutturalmente il problema dell'immigrazione. Perché guardate, noi siamo nella peggiore congiuntura possibile in termini di flussi migratori, ma vi prometto che la spunto io alla fine. E quando noi risolveremo questo problema, non sarà una butade. Preferisco metterci più tempo, ma trovare soluzioni strutturali. Perché noi siamo abituati a lavorare così. E allora poi mancheranno alcune grandi riforme da fare, che stiamo già lavorando. E vado verso la conclusione. Quella delle nostre istituzioni, per esempio. E avete visto che hanno detto, ma no, ma la riforma costituzionale non è una priorità. Mo' ce l'abbiamo un governo, certo che ce l'abbiamo un governo, sta pure lì, diciamo, cinque anni a occhio. O comunque si dà questo obiettivo. Però la verità è che io non mi preoccupo, come hanno fatto altri partiti in altri tempi, di stare lì a apparecchiarsi la legge elettorale a sei mesi dal voto, cercando di disegnare le leggi elettorali che gli servivano a quelli che stavano in maggioranza per vincere le elezioni. Questo non mi interessa, non so che cosa accadrà fra quattro anni, fra cinque anni. Mi interessa lasciare a questa nazione una parvenza di normalità. Nello stesso periodo in cui in Francia ci sono stati quattro presidenti della Repubblica, in Germania tre cancellieri, da noi non abbiamo contato i governi. E lo paghiamo. Lo paghiamo perché quando l'orizzonte del governo è breve, sei mesi, un anno, un anno e mezzo, sapete che cosa fa il governo? Cerca di dedicarsi solo al consenso immediato, no? Spendo tutto quello che ho, devo cercare di garantire i voti, non c'è visione, non c'è strategia, non c'è niente. Lo abbiamo pagato a livello internazionale con una credibilità che era scarsa perché i nostri partner si mettevano seduti con noi e si chiedevano vabbè, chissà se fra sei mesi ci stai ancora tu. Oggi è una grande forza che noi abbiamo la stabilità di questo governo. Lo abbiamo pagato a 360 gradi. Allora, questa è un'altra eredità che io vi prometto di lasciare a questa nazione. Una riforma che dica due cose. che garantisca due cose. Stabilità dei governi, dare a chi vince le elezioni possibilmente cinque anni per realizzare il proprio programma, per realizzare la propria visione e poi chiedere conto. E secondo, è più importante rispettare il mandato dei cittadini uscito dalle urne. Basta con i governi fatti in laboratorio, nel palazzo, basta con il voto dei cittadini che non conta niente. Basta con tutte queste dinamiche che ci hanno devastato. È una riforma economica questa. Prima ancora di essere una riforma che rimette i cittadini al centro. Una riforma economica. Come lo è quello della giustizia, che pure cominceremo a portare avanti nelle prossime settimane. Quella della burocrazia. Pensate che il ministro delle riforme, delle riforme, a casellati, ha fatto un'iniziativa per cui una volta ogni tot settimane, abolisce un decennio di decreti reggi. Perché noi abbiamo nel nostro ordinamento, oltre alle migliaia di leggi che abbiamo fatto durante la Repubblica, anche quelle dei decreti reggi, che sono cose tipo la società per la navigazione a vapore dei laghi. Sono tutte norme che ci sono nel nostro ordinamento, che rendono la situazione ancora più folle. E stiamo semplificando, sburocratizzando anche la burocrazia. Signori, basta con questa idea che è il cittadino al servizio della burocrazia. Il mondo non funziona così, è la burocrazia che sta al servizio del cittadino. Rimettiamo le cose in oro. Rimettiamo le cose in oro. E poi, e vado alla conclusione, non ti sento tesoro, scusami. Anche, anche, è un altro grande tema che va affrontato, amore mio, ma guarda, c'è un modo solo per riuscire a fare tutto quello di cui c'è bisogno. Rimettere in modo la crescita. Perché la coperta è corta e ha voglia a tirarla da una parte all'altra, sempre quella è. Dove metti i soldi li togli da un'altra parte. A meno che non riusciamo a far camminare l'economia. E allora il lavoro, le aziende, gli investimenti, i soldi che entrano nelle casse dello Stato. E allora sì, avrai le risorse che ti servono per tutto quello che puoi fare. Non solo per le pensioni, non solo per continuare a tagliare le tasse sul lavoro, ma anche per consentire alla gente di tornare a fare i figli. Perché se noi non ci rimettiamo a fare figli in questa nazione siamo spacciati. È chiaro, anche quella è una misura economica. Al di là del fatto che è anche un tema per me, diciamo, di continuità della nostra identità, della nostra comunità. Allora bisogna lavorarci tanto e noi stiamo lavorando tanto. Bisogna lavorarci tanto, bisogna lavorarci con umiltà, bisogna lavorarci con dedizione. Bisogna non stare a sentire le polemiche. Io non leggo i giornali, vi faccio questa confessione. Non leggo i giornali perché leggo un sacco di ricostruzioni che secondo me, diciamo, non ti fanno concentrare sulle cose giuste. E non leggo manco le polemiche, alcune le trovo molto divertenti, tipo questa adesso, la RAI, le cose. Allora voglio dirvi una cosa, io non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Io voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, da un sistema di potere nel quale non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Io voglio un sistema meritocratico e plurale, che rappresenti tutti, che dia spazio a tutti e soprattutto a quelli che se lo meritano, non in base alla testera di partito che hanno in tasca, ma in base al valore che dimostrano. E se anche nella RAI, nel punto in cui qualcuno si deve misurare col merito, decide che non ce la fa e vuole fare qualcos'altro, non è un problema che possiamo porci noi. Noi possiamo garantire meritocrazia e pluralismo. Però quello che sta accadendo racconta qualcosa che sapevamo. Ci hanno detto che la sinistra aveva un'egemonia culturale, non era egemonia culturale, era egemonia di potere. Sono due cose molto diverse. E oggi c'è un nervosismo per la paura di perdere quel sistema di potere, ma a me non interessa costruire un altro sistema di potere. A me interessa che questa nazione capisca il principio del merito. Pari dignità, pari opportunità nel punto di partenza, ma poi dove arrivi quello dipende da quanto sai dimostrare tu. Questa è la più grande rivoluzione che si può fare in questa nazione e la costruiremo. Tutto questo richiederà molto lavoro, molto tempo, molta pazienza. Non solo per me, non solo per Matteo, per Antonio, per Maurizio. Sono fiera della mia squadra di governo, sono fiera della maggioranza, sono fiera della nostra compattezza e della nostra coesione, ma anche per un'altra persona, per Enrico Trantini. Per una persona capace, onesta, competente, che ha una lunga storia, che ha masticato politica fin dalla nascita, figlio di uno dei padri della destra siciliana, che ricordiamo, al quale mandiamo un grande abbraccio. Una persona che ha fatto tutta la trafila della politica, dalle assemblee studentesche, secondo me sono quelle che ti formano di più, consigliere di zona, consigliere comunale, assessore della giunta pogliese, avvocato penalista, di riconosciuto valore, una persona seria, una persona per bene, una persona concreta. Io penso che se ci aiutate domenica e lunedì a completare questa filiera, che dal comune di Catania ci porta fino al governo della nazione. Enrico è nato e cresciuto a Catania, io sono d'origine siciliane, presidente Schifani è siciliano pure lui, ci avete un po' di bei siciliani che vi danno una mano a dare a questa regione, a questa splendida isola, il valore che merita. Viva Catania, viva il centrodestra, viva anche i fratelli d'Italia, viva l'Italia, grazie! Grazie a Giorgia Meloni, per Enrico Trentino, sindaco per Catania, grazie presidente, grazie grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, grazie presidente, grazie a voi, mi raccomando domenica e lunedì, non diamo nulla per scontato, scriviamo nuove pagine per Catania, viva Catania, buonasera a tutti!